Poi ci siamo qui a sudare insieme a noi con un segno di grande ospedalità perché questa è l'estate anche di musicultura e quindi ci rivediamo tra poco nel box fuori voi dentro noi e poi questa sera è tutto trattabile, grazie Duccio vai pure tu, Gianni prendi il bicchiere invece che il cibo All'ombra, rigorosamente all'ombra Le piante 30 secondi Questa è la nostra Questa è la nostra Questa è la mia qui, una lupa da fuori Adesso vediamo Questa è la mia qui, una lupa da fuori, una lupa di 25 euro Siamo con carte fidati, il voto è sempre per punto di vista, essere lunga, più una connessione, più lupa Punto vendita, la copse è tu Eccoli ho perso dal treno, Alexa è sto di casa, spegni tutte le luci Mentre corro al parco, abbassare e alzare le tapparelle Antonio Ruggero, dal 1889 Grazie a tutti Grazie. Grazie. Grazie.